Il motto dell'Assessorato alla Cultura di Milano è fare di più con meno, è un motto che mi trovo d'accordo e credo che da consulente per l'arte contemporanea abbia tentato di adeguarmi a questo motto portando delle idee e delle mostre che sono importanti ma anche sono fatte con mezzi abbastanza giusti non voglio dire né limitati né miseri ma mezzi giusti e adeguati a quello che noi stiamo portando. La prossima mostra che si inaugurerà il 18 marzo è una prima grande retrospettiva dell'opera di Jeff Wall un fotografo, un artista dei più importanti nel mondo che si è visto raramente in Italia e qui ci saranno al PAC 42 opere che fanno un escursus di tutta la sua produzione una grande occasione molto importante per Milano che però conferma che il binario su cui si è messo il comune con la cultura è un binario giusto, è un binario che dovrebbe continuare a questa velocità e con questi costi sperando però ogni tanto che ci viena qualche linea in più.